Noi non possiamo dare solo la colpa alla comunità europea, agli scienziati o alle grandi catene di distribuzione alimentare per le strussate che fanno nei confronti degli animali. Se noi ci riflettiamo siamo tutti un po' curiosi quando ci rapportiamo con gli animali, o no? Gente che compra il pappagallo, lo porta a casa, lo mette in coppa o un trispo, con una catenella vicino alla zamba, tipo carcerato, va vicino e lo vuole far parlare. Coccoritto! Coccoritto! Ma che è assurdo, guarda il labiale, Coccoritto! Dando il pappagallo, sta con gli occhi abbassati a te, ci fanno stare zitti, questi sono quei pazzi che te l'hanno coltellato all'improvviso. Su deficiente mi sta chiamando Coccoritto da una settimana, ma io mi chiamo Gerardo, che cazzo parlo?